Benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi siamo tornati in un nuovissimo vlog e in questo vlog vi voglio dire Vi voglio spiegare le nuove serie che arriveranno in futuro Allora Direi di iniziare Quindi via Ragazzi allora questo video andrà abbastanza veloce Perché non dico che questo sarà l'unico giorno per dire questa cosa Però a inizio ottobre Vabbè pure adesso Devo darci tempo proprio con i video di Yoshi Perché il 15 novembre usciranno Pokemon Spada e Scuto E io vi aspetto il 15 novembre con la serie di Pokemon Spada Attenzione Spada Allora Appunto a nove Sia a nove però no A ottobre Vi inizierò a caricare probabilmente più video di Yoshi Yoshi E di Kirby Credo che finirà prima di Yoshi Quindi Non è che mi sto tanto così tanto Tanti problemi Però il problema Il problema principale è Tanto che fra poco esce Pokemon Spada e Scuto Non so se fare un giorno Kirby Un giorno Kirby Un giorno Yoshi Quindi ho pensato Calico Calico i tuoi video di Yoshi In questo giorno E forse nel prossimo giorno Carico un video di Kirby Un video di Yoshi Non lo so Però non sarà più un video Kirby Un video Yoshi A me non adesso Cioè adesso Cioè adesso sì Non lo so nemmeno io In realtà Però dico che A inizio ottobre Inizio Sfiterò tento con Yoshi Però un'altra cosa Io vi aspetto Il primo Cennario No che dico No il 17 Cennario Se non mi spaglio Con Sì con Pokemon Con Dragon Ball Z Kakarot Porterò pure Quella Serie Nel canale Allora A proposito di Dragon Ball Da Dopo Dragon Ball Dicevo Dipende Potrei portare Una serie Una serie Per virgolette Di Dragon Ball Allora E cominciamo Posso portare Pen 3 Paratue Serie Su Dragon Ball Per la Playstation 3 Cioè Non vi dico i nomi Sennò spoiler Attenzione Sono ciocchi abbastanza vecchi Per la Play Però Uno merita Perché Non Non ho visto Tanti Tanti Che mi vengono Commenti E così via Non vedo Tanti youtuber Che portano Quel Gioco Di Dragon Ball Quindi Troppo Troppo Zeta Cacarote O prima Non lo credo Di Forse Posso organizzarmi Qualcosa Potrei portare Appunto Quella serie Adesso la Playstation 3 Il punto E che Non lo so Sinceramente Perché Ora sono un po' In conflitto In confusione Perché Ora devo Riregistrare L'episodio 2 Di Kirby Più Il computer Mi ha fatto L'aggiornamento Quindi non so Che cavolo È il successo E più Devo caricare Guarda L'episodio Di Yoshi Quel Vabbè Quello Che dovrebbe uscire Non so nemmeno Io quanto Quindi Ciao Intanto Allora Il tema Dragon Ball L'abbiamo superato Ritorniamo Velo a fare In tema Pokémon Se volete Vi porto Non una serie Un Un 2 3 video Di Pokémon Master Posso Appunto Posso portare Pokémon Master Un paio di episodi Se vi va Oppure Tipo Dragon Ball Stiamo parlando Di Pokémon Ciccio E basta Allora Un'altra Un'altra Cosa Che vi voglio dire Che il 29 Di Settembre Non mi ricordo Settembre Sì Dovrebbe Usirà Appunto Super Mario Kart Tour Che porterò Se volete Ok Un video Lo farò Diventa ora Voi Se volete Questa serie O O meno Quindi Cioè Allora Questo video Volevo che Volevo Che Era veloce E te veloce Pilefretti Quindi Appunto E capitoliamo Tutto Vi aspetto Il Quante è Il 15 novembre Con Pokémon Spada Il Il 27 Cennario Con Dragon Ball Zeta Kakarot E le altre Serie E forse Dico forse Il 29 Con Mario Kart Tour Per il telefono Quindi Ciò Queste Sono le novità Del canale A proposito Se volete Se volete Che Porti Il nuovo Celta Scrivetelo qua sotto Nei commenti Però Se volete Devo pensare A qualcosa Perché Devo mettere Celta E poi Nello stesso tempo Quindi Non so Ma Non so neanche Quando è uscito Se è uscito Vabbè Quindi Ciao Spero che Questo video Vi sia piaciuto Non notate Della mia Seconda Maglietta Terza Maglietta E Niente Quindi Scrivetemi Qua sotto Cosa Ne pensate Di tutto Questo Casino Che ho Detto In Cinque Minuti E Appunto Questo Ciò Questo Era L'unico Ciò Per Ricistare Questo Video Perché Appunto A novembre Esce Pokemon A Cennario Usciva Dragon Ball Quindi In verità Volevo fare Questo video In ottobre Però mi sembrava giusto Informarvi Di questi Cambiamenti Non è che Dico Kirpi F Questo giorno Io offri Questo E Kirpi Così E non è che All'improvviso Io offri Tutti i giorni Te ho Informare In qualche Modo Quindi Ciao Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo video E mi sono ricordato Che dovevi Ci stare Spyro Ma Porca Noi ci vediamo Noi ci vediamo